Passione musica riprende da qui non con uno ma con ben due artisti. Uno lo conoscete già, è il mio ormai amico Davide Neccia. Eccolo qui, ben trovato Davide, che questa sera ha cambiato padre solo nell'ambito della musica. Eh, vero? Ma lei è mia sorella. Ah, vedi? Qui è tutta una sorpresa. Donatella, buonasera, ben trovata. Come si dice, il mondo è piccolo. Oggi il centro del mondo è Anagni. Tutti Anagnini, evviva Anagni, la città dei papi. Salutiamola. Se siete del Lazio e non ci siete mai stati, fate una bella gita fuori porta, su alla cattedrale. C'è un ristorantino, vi godete un panorama. E che ve lo dico a fare? Verissimo. Verissimo, vero? Non dico bugie, eh? Non dico bugie. Siete tutti ospiti di Fulvio. Qui si ride e si scherza, ma è il momento di tornare alla musica. Due brani questa sera, firmati da Davide Neccia e Francesco De Diego, che approfitto sempre per salutare e che spero di conoscere al più presto. Ma intanto occupiamoci del primo brano. A suonare, lo vedete, con la sua estensione naturale, la sua meravigliosa fisarmonica. E scopriremo anche la bellissima voce di Donatella con Non dirmi altre bugie. Mi sembra molto un avvertimento. Scopriamolo insieme. Qui a Passione Musica è il momento di Donatella e Davide Neccia. C'è una ragione di Donatella e Davide Neccia come questa qua, perché in amore vince chi fugge e hai vinto tu. Le mie amiche mi dicevano così, non innamorarti mai di un playboy. Lui ti usa ma ti lascia prima o poi. Sei la sua bambola e lui vuol giocare con te. Questo non è amore vero, ma purtroppo tu mi piaci. Anche se non sei sincero, ti regalerò i miei baci. Le tue mani sulle mie, ma non dirmi altre bugie. Altrimenti io vado via, torno a casa, casa mia. Con l'amore non si scherza e tu lo sai. Io soffrivo ma non te l'ho detto mai. Ma credevo ciecamente nel tuo amor, per troppo tempo tu hai giocato col mio cuore. Si lo so ci son cascata pure il mio, e mi sono innamorata di un playboy. Tu mi lasci e poi mi prendi quando vuoi. Ma la tua bambola non vuol giocare più. Questo non è amore vero, ma purtroppo tu mi piaci. Anche se non sei sincero, ti regalerò i miei baci. Le tue mani sulle mie, ma non dirmi altre bugie. Altrimenti io vado via, torno a casa, casa mia. Le tue mani sulle mie, ma non dirmi altre bugie. Altrimenti io vado via, torno a casa, casa mia. Altrimenti io vado via, torno a casa, casa mia. Portatori sani di buon umore, io lo dico sempre, ho visto che siete tornati nelle balere, nelle piazze. Sbaglio, questa è una passeggiata? Come si chiama? Foxtro. Foxtro nel ballo di coppia, vero? Sì. E anche ballo di gruppo, questo? Sì. Si può fare. Va bene, adesso prendo anche qualche lezione e poi la prossima volta mi cimento anche con un ballo. Donatella, noi ci vediamo ad Anagni intanto, va bene? Voi ci approvare. Va bene, verrò sicuramente anche perché io sono una ballerina, provetta. Non vado a scuola ma vado solo a ballare, quindi ci vediamo. Ci vediamo. Ti abbraccio, ti bacio, è stato un piacere. Alla prossima. Grazie.